Bentornati ragazzi! Bentornati sul nostro canale! Siamo ritornati, allora intanto vi siete ripresi contro Milan-Juventus la sfida? Speriamo di sì. Oggi Thomas, che cosa vorremmo parlare? Parliamo oggi di una Lazetich, di un giocatore attaccante della stella rossa. Cosa ne pensi Thomas? Eh, Kevin, penso che è un grande giocatore, però tra i giovani, però com'è che farà Mede? E tu che pensi? Che numero di maglie prenderà questo ragazzo? Allora, intanto Thomas prima di dirlo, possiamo dire che Lazetich è un giocatore classe 2004, 18 anni, serbo, e Thomas secondo me Milan ha preso un ottimo giocatore e il numero di maglie che secondo me può prendere questo ragazzo, visto che è un attaccante, secondo me, può prendere il numero 21. Io ragazzi dico che prende il 51, scrivetelo sui commenti che cosa pensate che numero prenderebbe Lazetich. Peccato, perché ragazzi, noi abbiamo preso Lazetich, dicono che la Juventus abbia preso Vlaovic, l'Inter sta per prendere, forse sta per prendere Gosens. Come? Chi? Gosens, Thomas, però pazienza. L'Inter? Sì, sì, Gosens forse va all'Inter, però pazienza ragazzi. Io sono felice perché intanto il Milan ha comprato un nuovo attaccante, magari questo attaccante sarà bravino, come magari può essere un Robach, queste cose qua. E andiamo avanti con sempre Sven Botman, che non si ora capirà il difensore, non si ora parla più del ragazzo Botman. Quindi, ora vedremo in questi giorni come andrà su Sven Botman e pure su... E il cognome di Bremer qual è? Eh, Bremer è il cognome. Vabbè, Bremer. E, Sira, secondo me, guardate, i difensori pure ci stiamo pensando, magari... Che ne sai, Thomas, secondo te chi potrebbe essere per il Milan? Magari Botman, secondo te, può venire al Milan? Kevin, io ti dico forse, perché Sven Botman, sto vedendo che purtroppo dicono che Lille non ce lo vuole dare. E anche, per dire, si parlava anche del giovane ragazzo del Manchester United difensore centrale Bailey, che è praticamente il difensore dello United, che era l'ultimo che il Milan aveva pensato, ma non lo sappiamo veramente. Noi sappiamo che prima, prima di tutti c'era anche Sven Botman, vabbè, e c'era anche Bremer, Milenkovic, che adesso lasciamolo da parte, Milenkovic non è più tra gli obiettivi del Milan, e questo ragazzo, Bailey, difensore centrale dello United e non lo so. Kevin, io ti dico questo Bailey, Bailey l'ho visto giocare al Manchester, l'ho visto, però, Kevin, ti dico, è meglio che ci teniamo d'occhio Bremer e Sven Botman. Ok. E vabbè, belli, magari, lasciamolo andare da un'altra parte. Bah, può darsi, adesso vediamo. Quindi, insomma, ragazzi, queste sono le notizie di mercato che per ora sono arrivate, quello che abbiamo detto di Lazeric, che addirittura ci siamo dimenticati di dirvi che è anche a casa Milan, è già a casa Milan, poi dicono che Blauvic ha la Juve, pazienza, Vabbè, Blauvic, Gosens potrebbe andare all'Inter, e difensori ancora si deve vedere, noi speriamo che anche un difensore possa arrivare, come è arrivato un attaccante. E possiamo concludere il video con praticamente... Scusate, ci siamo interrotti perché ce l'ho un attimo venuto da ridere. E, Thomas, che cosa dici su Blauvic, invece? Che è un attaccante forte, però sarebbe bello se rimaneva la Fiorentina. Allora, per me, ragazzi, anche per Thomas, a noi non ce ne frega proprio niente se Blauvic è andato alla Fiorentina. Perché tanto la Juve, tre anni fa, ci aveva... Eh, praticamente, Ronaldo è arrivato alla Juve, ma non mi sembra che la Juve con Ronaldo abbia fatto un sacco... Chissà che... Ha fatto fatica ad arrivare in Champions League, per tre anni non è riuscita a superare i quarti, non ha vinto con l'Alia, sei quarti, non ha vinto con il Porto e i quarti, anzi, non ha vinto con l'Alia, sei quarti, non ha vinto con il Leone e i quarti, non ha vinto neanche con il Porto. E chiudiamo il nostro video, praticamente... Togliamo il Milan ora, un attimo... E c'è una notizia, che anche, vabbè, siamo anche sportivi, praticamente, Matteo Berrettini oggi ha vinto contro il tennista Gaël Monfilz, e... è riuscito ad andare in semifinale contro lo spagnolo Rafa Nadal. e stasera dovrebbe giocare Sinner contro Gaël Monfilz, quindi speriamo che oggi Sinner possa farcela e Berrettini possa riuscire a vincere contro Nadal. Bene, come concludiamo il nostro video? Forza lotta! Aspetta, il nostro motto è... Forza lotta! Vincerai, non ti lasceremo mai! Ciao a tutti! Ciao e ci rivediamo venerdì! Ciao ciao! Ciao!